Viene presentato questo giornalino scolastico qui a Villa Raspa all'interno del plesso scolastico. Com'è nata questa iniziativa che ha visto comunque una grande partecipazione dei bambini? Assolutamente sì, sono stati coinvolti e felici di approcciarsi al giornalismo in modo diverso. Questa iniziativa nasce dal progetto Biblioteca Scolastica che conduciamo già da tre anni. Nel primo anno abbiamo creato lo staff delle mamme bibliotecarie che ci aiutano a tenere aperta la biblioteca. Questo tipo di progetto esiste da tantissimi anni. Siamo riusciti ad avviarlo anche nel nostro istituto sulla scorta di quelle che sono le esperienze illuminate delle biblioteche perché ci teniamo a trasformare la lettura in qualcosa di piacevole, di leggero e di vissuto dai bambini. E nella lettura la scrittura creativa. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare una giornalista di alto profilo che ha aiutato i bambini a trasformare conoscenze ed abilità in competenze. Sono diventati bambini competenti nel giornalismo che è un aspetto importante della loro vita. Piccoli giornalisti, giornalisti in erba, quanti sono stati i ragazzi interessati a questo progetto? Tutti e 44, soprattutto i bambini BES. I bambini con bisogni educativi speciali sono importantissimi, sono preziosi e hanno trovato in questo laboratorio di scrittura creativa la loro dimensione. Tutti importanti, tutti preziosi e tutti diversi. E nella diversità ciascuno ha dato il meglio, grazie alla guida di Patricia che volontariamente li ha aiutati in questo laboratorio, incontrandoli tante volte e facendoli appassionare al giornalismo. E la loro spoltore. Hanno vissuto spoltore nel quotidiano. Quindi hanno fatto delle interviste, hanno fatto delle ricerche, si sono avvicinati alla tradizione, alla cultura, a quella significativa, che magari non arriva a loro e attraverso la ricerca hanno vissuto il passato e le radici interpretandoli nel presente.